Buona domenica 2 giugno, festa della Repubblica, di ciò che appartiene a tutti e a tutte, che non si considera semplicemente un luogo esclusivo per i nati in questa terra, ma come luogo accogliente nei confronti di quanti fuggono da carestia e fame generate dalla prepotenza del capitalismo predatorio. Res pubblica, non un regno con un sovrano o una entità geografica escludente dominata dalla capocrazia. Repubblica, res pubblica, la Costituzione, l'accordo tra le parti nella diversità per garantire un percorso difficile di condivisione nella diversità. Certo tutto questo implica anche un certo grado di inefficientismo nel tempo nel quale si celebra la competizione e l'efficienza, ma non vi è alcuna efficacia relativamente a un clima che è necessario ed essenziale per vivere serenamente in un luogo geografico bellissimo, con una molteplicità di culture, con un meticciato evidente che qualcuno vuole semplicemente frammentare, rompendo quel patto di unità nazionale che è scritto nella Costituzione. C'è un grande rispetto ovviamente per le diversità territoriali, non solo le regioni ma anche le piccole comunità locali, ma allo stesso tempo si deve essere garanti di una unità nel divenire e questo sta scritto nella Costituzione, la Costituzione della res pubblica, la Costituzione repubblicana che qualcuno vorrebbe modificare e la cui modifica avrebbe delle conseguenze terribili per il nostro paese. Avrebbe il significato di rituffarci in un momento storico particolarmente oscuro, mi riferisco alla prima metà del Novecento, a quel fascismo irriverente nei confronti del rispetto della diversità, incline semplicemente al fatto che pensava quel fascismo che un capo, un uomo solo, forse anche una donna al comando, avrebbe garantito pace, ordine, tranquillità. Non è andata così. Facciamocene una ragione rispetto al fallimento di quell'epoca storica, se ne facciano soprattutto le persone che balbettano di fronte alla dichiarazione di antifascismo, perché la Costituzione italiana è antifascista e se ne facciano una ragione. Sia il popolo ovviamente a dire l'ultima parola rispetto ai tentativi di modificare la Costituzione. Non è una questione soltanto politica, ma è prima di tutto una questione culturale. Anzi, io credo che oggi la Costituzione abbia bisogno più che mai di essere confermata attraverso una legislazione dell'accoglienza. Penso al ius soli, contrapposto al ius sanguinis. Bene, c'è ancora una parte di questo nostro paese che è tendenzialmente razzista, perché pensa che sia il vincolo di sangue a garantire il diritto e quel diritto garantito del vincolo di sangue diventa una forma di privilegio escludente nei confronti di quanti sono considerati diversi, proprio attraverso una interpretazione distorta di come sono fatti gli esseri umani. E questo ha delle conseguenze culturali, perché la cultura dell'esclusione in nome del vincolo di sangue, che costituisce un diritto che esclude la diversità e bere questo genera incertezza, indisponibilità a crescere e maturare in una prospettiva di rispetto della diversità. Una cultura di questo tipo è incapace di imprimere lungo le strade dell'evoluzione della vita una dimensione di amore, di solidarietà autentica, e richiamo ancora una volta il termine solidarietà, che ha a che fare con l'equa distribuzione delle risorse a partire da quelle economiche. Solidus è la moneta, la moneta da condividere, non da trattenere, perché questa classe politica oggi al governo del paese, che rappresenta una minoranza rispetto all'insieme dell'elettorato, ha la presunzione di porre mano alla carta costituzionale. La questione del premierato forte è espressione di una debolezza intrinseca da chi teme di perdere il posto di dominio. Vuole delle garanzie formali che non stanno nella sostanza della costruzione del consenso e non accetta neppure di essere in qualche modo sobbalzata rispetto alla perdita del consenso che deriva dal fatto che non sei in grado di dare delle risposte concrete ai bisogni reali della popolazione. Che cosa fai? Ti inventi il premierato forte, che è una forma edulcorata di tirannia. Questo è. Che piaccia o no, ci possono argomentare in maniera diversa le giustificazioni che richiamano alla necessità del premierato forte, ma non troveremo alcuna ragione. Neppure se pensiamo all'efficientismo, semplicemente significa consolidare un potentato che poi si trasferisce nell'insieme dei poteri, il cui equilibrio è la garanzia di democrazia. Se incominciamo a subordinare i diversi aspetti della vita democratica al potere politico e dei partiti, abbiamo fatto un passo indietro e ritorniamo alla logica del fascismo e delle tirannie che precedono il fascismo stesso. Ci si chiederà, ma tutto questo cosa c'entra con la dimensione culturale, con la sofferenza umana, con il disagio esistenziale e c'entra come? Perché in un clima culturale nel quale c'è alcun rispetto per la diversità, chi si trova a vivere una condizione di disagio spirituale si sente particolarmente perduto e si sente fuori dal contesto comunitario. Ecco perché oggi la politica e le politiche di salute mentale devono in qualche maniera trovare una forma di armonizzazione e chi si occupa di salute mentale si faccia protagonista di un pensiero critico nei confronti della cultura dominante. Riprende i temi del disagio della civiltà come fece Freud, studioso e scienziato attento delle dinamiche mentali attraverso le quali l'essere umano affronta le contraddizioni della vita. E quelle contraddizioni poi sono pienamente espresse nell'ultima parte dell'opera di Freud, quando incomincia a parlare di disagio della civiltà, quando incomincia ad accennare un aspetto fondamentale al di là del principio di piacere, il desiderio di morte, di quiete, tutti argomenti che toccano profondamente proprio l'aspetto della politica o il carteggio tra Freud e Einstein relativamente alla questione della della guerra e della pace. Tutti argomenti che dovrebbero essere all'ordine del giorno nei sistemi di cura, del prendersi cura della salute mentale. Non si può essere dei tecnici astratti chiamati a garantire l'ordine costituito, fungendo da controllori sociali. Non è questo il compito della cura dell'anima. La cura dell'anima è per sua natura sovversiva, perché ci porta alla soglia del disagio esistenziale vissuto, del disagio spirituale. Ci porta alla soglia di quella condizione di inaccettabilità delle condizioni date. Che cosa fai di fronte alla inaccettabilità delle condizioni date? O soccombi e ti rassegni, soccombendo, oppure generi una rivolta all'insegna di una dimensione espressiva che richiama l'attenzione dei tutori della salute mentale. Ma c'è un'altra strada possibile immaginare, non è una terza via, è l'unica via possibile ed è quella ecologica. Di fronte al disagio spirituale, l'impossibilità o l'incapacità di accettare se stessi alle condizioni date, si pone mano all'ascolto dei sintomi. Si ascoltano, non si chiude il discorso aperto attraverso una categorizzazione. Sei un depresso, un alcolista, un tossicodipendente, un bipolare, uno psicotico, un autistico e via dicendo. Quante categorie troviamo nel DSM V? Centinaia. Centinaia che chiudono il discorso rispetto alla soggettività di ciascuno, soggettività che non mette in ombra l'aspetto comunitario, ma ci parla delle dinamiche culturali e comunitarie. Oggi, 2 giugno, festa della Respubblica, del bene comune, della necessità di trovare efficienza nella lentezza delle decisioni. Siamo chiamati oggi a celebrare il difficile percorso all'insegna dell'ecologia radicale, profonda e integrale, che ci chiede di essere non dominatori, capi, capi dominatori dell'esistenza, ma servi, servitori di una dinamica che ha a che fare con il rapporto tra le persone e tra le persone e l'ambiente. Una dinamica coevolutiva, che non intende assolutamente essere sottoposto ai desideri, a volte insani, del capo di turno. Siamo tutti chiamati a condividere, non a comandare o a dominare, a partire magari dalla presunzione che ci sia un occhiero forte, il nostro io che porta all'autoreferenzialità, il quale, entrato nella stanza del comando, pone e dispone la propria volontà, semplicemente per celebrare se stesso o se stessa, maschio o femmina, non cambia assolutamente nulla. Oggi, festa della Repubblica e della Costituzione, accogliamo con rinnovata passione un desiderio profondo di affrontare insieme le tematiche di sofferenza esistenziale oggi vissute dalle generazioni e tra le generazioni, per realizzare un sistema di cura perseverante nel tempo e improntato dal desiderio di sobrietà, di equilibrio evolutivo. Sono discorsi astrati, ma proprio per niente questa è concretezza che richiama la necessità di rivedere radicalmente il nostro rapporto con la politica che non deleghiamo semplicemente i partiti. Benissimo che ci siano i partiti, ma non vi è una delega assoluta a nessuno e a nessuna. Nessuna delega. Questo è quanto scritto nella Costituzione Repubblicana. Una delle più belle carte scritte al mondo a partire da una diversità dopo aver vissuto una grande tragedia che è stato ciò che è accaduto nella prima metà del Novecento, in particolare anche nel nostro paese, che ha vissuto la grande tragedia della guerra e delle leggi razziali, dell'ignominia del fascismo e del nazifascismo. Per essere autenticamente democratici dobbiamo imparare a essere più autenticamente ecologici e di fronte al disagio spirituale, trovare una via di cura attraverso la quale si rispetta la diversità e soprattutto si credo a delle condizioni affinché le risorse di ciascuno possano essere messe in primo piano. Non le mancanze, ma le risorse, comprendendo contemporaneamente che quelle risorse sono generate da un soggetto che per sua natura non è un granché, è fragile. Tutti siamo ugualmente fragili, tutti siamo chiamati a prendere atto che non siamo un granché, ma questo non deve spegnere l'entusiasmo, la speranza, la passione e la gioia di vivere nella pienezza di un percorso evolutivo nel quale daremo ulteriore compimento ai principi espressi nella Carta Costituzionale. Viva la Repubblica, viva la Repubblica antifascista. Buona giornata a tutte e a tutti.